Shakespeare! Il drammaturgo dei famosi amori impossibili che muoiono più velocemente delle relazioni su Tinder! Ah, Foscolo, i tuoi sepolcri li uso come sonniferi al posto della camomilla prima di addormentarmi. Quanto hai guadagnato dall'ennesimo adattamento di Romeo e Giulietta? Il mio preferito è senza dubbio quello con DiCaprio. Foscolo, hai dato al mondo cosa esattamente? Un manuale su come sembrare costantemente depresso? Depresso? Io esprimo il mio dolore in modo sublime. Nelle mie opere parlo delle passioni umane, della sofferenza dell'anima. Non come te, che trasformi tutto in una cozzaglia di sole, cuore e amore. Non c'è niente di più passionale dell'amore dei miei due amanti. Ogni mio dramma è un ode all'umanità, una rappresentazione di passioni e dilemmi che plasmano l'animo umano. L'amore, la vendetta, l'ingiustizia, li metto in scena per permettere al pubblico di riflettere sulla complessità della vita.